E la Legofan, benvenuti a tutti. Oggi vediamo una polybag presa direttamente dall'ultimo unboxing effettuato. E' la polybag di Lex Luthor, quella che vedete raffigurata qui sulla bustina. Il numero è il 30614 per identificarla. E' uscita nel 2018 e sono davvero davvero contentissimo di averla recuperata. E' una versione di Lex Luthor, poi ve ne parlo tra un istante, speciale. Innanzitutto voglio farvi vedere il disegno sulla confezione. Questo non andrebbe quasi neanche aperto, ma non ce la faccio a tenerla sigillata. Qui vediamo il palazzo del Daily Planet, famosissimo per chi segue i cartoni. E non solo i fumetti principalmente, ma anche nei cartoni presenti, come pure nei film. E questo invece è il palazzo della Lex Corp, quello di Lex Luthor. Ok, io direi di andare subito all'apertura e poi di montare questa bellissima minifigura. Allora, i pezzi ovviamente sono solamente tre. Oddio, quattro se si considera anche il mantello, ovviamente. Manca qualcosa. Ok, mi ha fatto già troppa confusione. Io direi di andare subito al montaggio della minifigura. Quindi abbiamo i pantaloni. Poi abbiamo la parte superiore della figura. bellissima davvero. Poi qui è presente il mantello che viene sempre conservato all'interno di... Ok, quindi andiamo a mettere anche il mantello. E poi... Non può mancare la testa. Ecco qui. Questo in tutto il suo splendore. Questa versione di Lex Luthor è molto molto particolare. Perché praticamente riprende una versione che gli appassionati di comics come me hanno visto negli ultimi anni, nel fumetto, verso la fine dei nuovi 52, l'evento introdotto dalla DC Comics. E poi, soprattutto, l'abbiamo visto principalmente dall'Opera, nella nuova serie Rinascita. Insomma, è un po' più complesso di così. In realtà poi adesso già non è più in questa versione. Ad un certo punto, Lex decide di abbracciare non più il lato scuro della forza, come si direbbe nel caso di Star Wars, e quindi decide di agire per il bene e crea una propria armatura, un po' come quella di Iron Man, però utilizzando non i classici colori, quelli verdi e viola, che vedremo tra un istante, ma i classici colori di Superman, addirittura con il simbolo di Superman, quindi utilizzando il simbolo di Superman, e il mantello rosso tipico proprio di Superman. Insomma, quindi una cosa molto molto particolare, diversa dal solito. E vediamo più in dettaglio la minifigura, con questa bellissima S stampata qui sul petto. Ovviamente è un'armatura tecnologica, infatti si vede benissimo come è rifinita, come è stampata. Non ricordo in occasione di cosa è uscita questa poligui, però io la volevo a tutti i costi. e quindi il mantello di quelli morbidi, ovviamente. Questa è la parte posteriore della figura, bellissima. E questa poi è la parte, come vi dicevo anteriore, ma è davvero magnifica. L'ex Luthor è stato prodotto dalla Lego in ben sei set. Se escludiamo quello riferito al film, che molti non hanno tanto amato, del 2016, che è appunto Batman vs Superman, rimangono cinque set. In realtà, poi, andando a scremare, i set veri e propri sono tre, e ci sono due PoliBag, in cui è presente il Superman, diciamo così, quello classico dei fumetti, non legato a film o altre cose. Io li ho praticamente quasi tutti. Eccoli qua, ora ve li faccio vedere. Eccoli qua, i quattro, l'ex Luthor della mia collezione. Quindi ne mancherebbe uno, che in realtà poi è in questa forma. Non so se in quel caso la stampa è diversa dalle altre. Veniva dato in omaggio, in quel caso, in occasione dell'uscita di un videogioco. In questo caso, invece, è uscito in un vero e proprio set. Ecco, ho dato una rapida occhiata mentre sto parlando con voi. E quella minifigura che ha la stessa corazza, però è leggermente più scura, anche in quel caso la la PoliBag è esclusiva. Quindi poi vedrò di recuperarla, in modo da averli praticamente tutti. Andiamo a vedere un po' questi quattro lex Luthor. Vedendoli tutti quanti insieme, notiamo che l'espressione facciale è identica per tutte e quattro le minifigure. Molti, proprio per questa PoliBag, hanno un po' storto il naso, dicendo che avrebbero potuto mettere, vista l'esclusiva della figura, avrebbero potuto mettere un'espressione facciale diversa. In realtà mi trovano d'accordo su questa cosa, anche se poi alla fine, diciamo così, è il timbro, il marco di fabbrica, come si dice, di Lex Luthor. Abbiamo quindi la versione, non le ho messe in ordine di uscita, ma semplicemente facendovi vedere Lex Luthor in una versione, diciamo così, normale, senza abiti da lavoro, quindi con giacca e cravatta, in borghese se vogliamo. Poi un Lex Luthor invece di sicuro già più interessante, questo è uno degli ultimi usciti, con un Mac che è davvero bello. In questo abbiamo tutta una serie di stampe, è un'armatura, ovviamente sempre costruita da lui. Poi l'altra versione invece è presente in un set junior, è uno dei pochi set che ho junior, proprio perché mi piaceva tantissimo la versione di Lex Luthor e non solo. Questa poi vi posso anche far vedere come è senza armatura, così magari facciamo il confronto con l'altra. Eccolo qui. Questa è l'armatura che presenta in questa versione, altrettanto bella e poi ovviamente quella che abbiamo appena visto. La parte invece posteriore delle minifigure è questa, questa è classica, semplice, non ha praticamente quasi nulla. Queste invece sono le due parti posteriori delle armature e infine è confrontata con quella di, diciamo così, l'armatura di Superman, se vogliamo. Quindi belle, davvero, davvero molto belle. Sono contentissimo, insomma, di essere riuscito a recuperare anche questa versione di Superman, ecco, infatti mi confondo, di Lex Luthor in versione Superman. È una delle polybag che volevo di più nella mia collezione e sono riuscito a recuperarla. Ok, mettiamo da parte e ritorniamo. Qui, polybag acquistata su Amazon, come anche l'altra che vi ho fatto vedere, quella di C3PO ultimamente. costo bassissimo, non so poi, è uscita da poco in realtà, io ricordavo che fosse uscita da molto più, da molto più tempo, in realtà solo un anno, se vogliamo già calcolare, 2019 come anche se siamo appena ad aprile. E quindi credo che col tempo aumenterà di valore. È una bellissima e rara minifigura particolare, poi, molto particolare, perché in questa versione Lex Luthor già nei fumetti non spadroneggia più, ecco. Quindi il mio consiglio è quello di comprarla e, insomma, di divertirvi poi per aumentare la vostra collezione di minifigure. Ragazzi, per questo video è tutto. Io, come sempre, vi invito e rinuovo l'invito a scrivermi nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate, qual è la versione che vi piace di più di Lex Luthor, ricordando che ci sono anche queste tre. Quindi, buona soluzione a tutti e al prossimo video. Ciao ragazzi!